Ah, questo si è risvegliarsi con la musica giusta. E non è la musica che stiamo ascoltando, eh? Joe, non è che sei proprio un cantante, lo sappiamo tutti, ma oggi abbiamo qualcosa che accorda perfettamente la nostra giornata. Amici da casa, preparatevi a scoprire 7 note, la nuova linea Caffè Toscano in capsule che trasformerà il vostro modo di godervi il caffè. Esatto, ed ogni soluzione della linea 7 note è come una nota in una partitura perfetta. Indovinate un po', potrete ascoltare la vostra musica preferita su Spotify con le playlist 7 note. Ogni miscela rappresenta un'esperienza unica da vivere e ascoltare, dal ritmo intenso di anima vigorosa al delicato arpeggio del nostro pensiero raffinato. E per celebrare la musica, sui nostri nuovissimi shop troverete le offerte che vi faranno cantare di gioia. E non dimenticate di usare il QR code che trovate sulle confezioni per scoprire tutte le miscele 7 note. Ma aspetta, c'è di più, vai sul nostro shop online e ordina ora il tuo Welcome Kid, potrai scegliere la macchia da caffè che più ti piace e insieme ti arriverà una degustazione delle nostre miscele di caffè dei nostri gustosissimi solubili. Vuoi sentire la magia? Certo. Ascolta. Il suo aroma è musica. Ogni sorso è una sinfonia. Ed ogni mattina diventa un concerto. Non perdete il ritmo e visitate il nostro e-shop. Sintonizzatevi sulle vostre note di caffè preferite. Oh, eh, eh. Ah, dimenticavo, sul nostro nuovissimo e-shop troverete anche le nostre meravigliose tazzine da collezione perché con 7 note ogni giorno inizia con la nota giusta.